Pappé e Leo Messi sono diventati nella finale mondiale del Qatar 2022 il secondo e il terzo giocatore della storia del calcio a segnare un gol in una gara di mondiali nei tempi regolamentari, supplementari e ai rigori nella stessa partita Aspetta, 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 un gol? Hanno fatto un gol ai regolamentari, un gol ai supplementari Nella finale E un gol anche ai rigori finali, trasformando il loro rigore Nella stessa partita Nella stessa partita ovviamente Il secondo e il terzo della storia Chi è stato il primo? Fontaine No No, bisogna intanto pensarsi su quando sono stati introdotti i rigori Cioè parliamo degli ultimi 40 anni Quindi siamo dall'82 in poi La prima partita dei rigori mondiali è Germania-Francia a 82 Quindi la domanda è su una partita Un giocatore in cui ha segnato tre gol Sempre nel mondiale Sempre nel mondiale Tre gol e la stessa partita Materazzi No? No Adesso è stato almeno doppietta più gol ai rigori Indizio Ha giocato in Italia, non è italiano ma ha giocato in Italia ed è un attaccante Un attaccante straniero che ha giocato in Italia Romano? No Vi do un altro indizio In quel mondiale Perché ha segnato in un mondiale La sua nazionale raggiunse il miglior risultato della sua storia in mondiale Qualcuno è indirizzato a no Ancora no Perché non è facile Quindi allora la nazionale ha raggiunto il miglior risultato in quel mondiale Un giocatore straniero che ha giocato Un attaccante straniero Il mondiale 94? Siamo negli anni 90 Siamo negli anni 90 Quindi sono tre i mondiali Vi do un come dire Vi restringo il campo Santa Cruz No Non ha giocato in Italia Però è stato in vacanza Può darsi Forse in qualche spiaggia ha giocato in Italia 98 abbiamo detto Anni 90 David Platt Roger Miglia No Io avevo pensato David Platt Non è Platt Nessuno ha ancora indovinato Deve essere difficile Almeno su Twitch Deve essere difficile Voi non sapete la risposta Faustino Aspriglia No Non è Aspriglia Deve essere un inglese Vi do un altro indizio Ha giocato quattro anni in Italia In quattro squadre diverse Saldoria Flore in raducioio Bravo Numero di Federico Balzaretti La partita è Romania Svezia Quarto di finale 94 Fa gol nei regolamentari E su parlamentari Poi vanno ai rigori Fa gol sul rigore Ma vince la Svezia